Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnale Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare e 4 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e code a tratti sempre verso Firenze tra Pistoia e BV111 per traffico intenso. In FIPILI per interventi di miglioramento della sicurezza restano 2 km di coda tra Montelupo e Ginestra verso Firenze e 1 km di coda in carreggiata opposta tra la Strassigna e Ginestra. Per i stessi lavori l'entrata di Ginestra in direzione mare è chiusa fino al 15 novembre. Ricordiamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Sempre in FIPILI per traffico coda in uscita a Scandicci per chi previene da Firenze e rallentamenti in carreggiata opposta tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. A Firenze per incidente segnaliamo la chiusura di via Giampaolo Orsini all'incrocio con via di Ricorboli. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!